Ciao a tutti, oggi vi svelerò alcuni segreti della mia cucina vegan, ovvero come realizzare delle verdure marinate sotto cuore. Iniziamo con questi splendidi carciofi. Una volta inseriti i nostri carciofi nel sacchetto vado direttamente a condirli. Vado a mettere del sale, del pepe, olio extravergine d'arriva, del succo di limone e aceto di meia. A questo punto vado a mettere le verdure sotto vuoto. Le nostre verdure, come vedete, sono pronte. E ora prepariamo le cipolle in agrodolce. Sale e pepe, aceto di vino, sciroppo d'agave. Ed ecco le nostre cipolle in agrodolce. Vado a marinare i finotti. Aceto di mele. Sale. Succo d'agave. E una spremuta di aranci. Andiamo a mettere delle carote precedentemente affettate. Un pezzetto d'aglio, qualche foglia di prezzemolo, sale, pepe e succo di limone. Andiamo a preparare una mela che marineremo con carcadè e agave. Inserisco del succo d'agave. E del tè al carcadè. Abbiamo così realizzato carciofi al limone, finocchi all'arancia, le cipolle in agrodolci, carote, prezzemolo e aglio e le mele al carcadè. Volevo fare un ringraziamento davvero molto speciale alla ditta Orved e a tutto il suo staff. Ciao! Ciao!